Ciao, sono Federico Pampana, commercialista ma soprattutto ideatore del metodo VIX, valutare, ideare, concretizzare e sviluppare, nonché autore del libro Best Seller Amazon, Azienda Ideale. Sicuramente il metodo VIX si prefigge come obiettivo di creare una nuova figura del commercialista, un commercialista che segua anche gli aspetti più innovativi delle realtà aziendali e private, e proprio per questo motivo non si può prescindere dall'argomento di oggi, che è quello degli NFT, i cosiddetti non fungible token, vale a dire dei beni che vengono negoziati sullo stesso mercato, ad esempio delle criptovalute, sugli strami degli stessi broker delle criptovalute, ma sono dei beni non scambiabili, che non hanno per così dire natura valutaria. Essendo un qualcosa di molto innovativo, siamo addirittura avanti rispetto alla normativa, già perché per le criptovalute c'è un piccolo accenno di normativa, per gli NFT non c'è alcun tipo di regolamentazione, quando però non è presente alcun tipo di regolamentazione non è necessariamente un bene, perché molto spesso dietro a materie non regolamentate si c'è il rischio di ricevere da un giorno all'altro un determinato controllo o un determinato accertamento, questo perché magari la normativa va avanti e cambia successivamente, magari al momento in cui sono stati acquistati gli NFT. Per questo è bene premonirsi prima e ragionarci prima, e è quello che faremo oggi. Ora, gli NFT non hanno appunto una normativa di riferimento, ma essendo scambiati, diciamo meglio, essendo movimentati, utilizzati sugli stessi mercati di riferimento delle criptovalute, l'interpretazione migliore che si può dare dal punto di vista fiscale è quella di andare a trattarli alla stessa stregua delle criptovalute. Che cosa significa? Per quanto riguarda le cripto e quindi anche per quanto riguarda gli NFT, c'è un obbligo di dichiarazione. Quindi le cripto, ma in questo caso gli NFT, devono essere sempre dichiarati. Perché sono assimilati, andando a fare riferimento come interpretazione della normativa cripto, queste sono assimilate ad attività finanziarie estere. E allo stesso modo dobbiamo trattare anche gli NFT, come attività finanziarie detenute in valuta estera. Il valore quindi degli NFT deve essere riportato all'interno del quadro RW della nostra dichiarazione dei redditi, che deve essere presentata entro il 31 ottobre dell'anno successivo rispetto a quello di riferimento. Solamente al verificarsi di determinati requisiti sarà applicata, oltre a quest'obbligo dichiarativo, anche una tassazione sulle transazioni tramite NFT. Quali sono questi requisiti? In primis devono essere ricondotti in euro. E inoltre, altro requisito che deve essere presente contemporaneamente, è che l'importo detenuto di NFT debba superare la giacenza media di 51.600 euro per più di sette giorni nel corso dell'anno. Stanti questi due requisiti che devono essere presenti contemporaneamente, quindi il superamento dei 51.600 euro di giacenza media per almeno sette giorni nell'anno e la riconversione, per così dire, in euro, nel momento in cui si generano delle plusvalenze, queste saranno tassate al 26%. Quindi se il valore iniziale di trasformazione, chiamiamolo così, da euro a NFT era di 50.000 euro e il valore finale di 100.000 euro, sui 50.000 euro di plusvalenza verrà applicato il 26% di tassazione. Si può generare anche una minusvalenza, potrebbe esserci un valore iniziale di 50.000 euro ed un valore finale di 30.000 euro. In quel caso si genera una plusvalenza di 20.000 euro, che non viene tassata, ovviamente, e può essere riportata a nuovo, quindi va comunque inserita nella dichiarazione dei redditi per poter andare, tra virgolette, a compensarla nell'anno successivo. Magari nell'anno successivo avremo una plusvalenza finanziaria di 100.000 euro, anziché pagare 100.000 euro il 26% su 100.000 euro, andremo a pagare il 26% su 100.000 euro meno i 20.000 euro di minusvalenza che abbiamo riportato a nuovo nell'esercizio precedente. Nel momento in cui si genera una plusvalenza, si va appunto ad applicare a questa plusvalenza una liquida del 26%. Il versamento di questo 26% deve essere effettuato entro il 31 luglio dell'anno successivo rispetto a quello di riferimento. E viene effettuato tramite il cosiddetto modello F24, che è il modello ad hoc che viene utilizzato per tutti i versamenti di qualsiasi tipologia di imposta, che va pagato tramite, ovviamente, il vostro on-banking. La scadenza del 31 luglio dell'anno successivo rispetto a quello di riferimento per versare l'eventuale tassazione sull'eventuale plusvalenza, posto che siano presenti i due requisiti di cui abbiamo parlato all'inizio del video, è una scadenza tassativa e una scadenza che però può essere anche rateizzata. Quindi si può anche versare quest'imposta sull'eventuale plusvalenza generata in cinque rate mensili, a partire dal 31 luglio per poi proseguire al 31 agosto, 30 settembre, 31 ottobre e 30 novembre. La prima rata però deve essere sempre pagata entro il 31 luglio. Ora, nel momento in cui per qualsiasi motivo non si riesca a pagare né in unica soluzione né in maniera rateizzata entro il 31 luglio, niente paura, perché esiste il cosiddetto istituto del ravvedimento operoso, vale a dire un'autodeterminazione dell'imposta omessa con l'applicazione di una piccola sanzione che non supera mai il 3%. Quindi se ci dimentichiamo o non riusciamo a pagare l'imposta derivante dalla plusvalenza eventualmente verificatasi dalle nostre movimentazioni di NFT, se non riusciamo a pagarla entro la scadenza prevista dalla normativa, niente paura, perché anche se ce ne accorgiamo due, tre, quattro, cinque, sei, sette mesi dopo, l'importante è rendersene conto prima che arrivi l'avviso da parte dell'Agenzia delle Entrate, perché se ce ne rendiamo conto prima dell'avviso possiamo pagare con ravvedimento operoso e sanare l'omissione con una sanzione del 3%. Qualora invece faccia prima l'amministrazione finanziaria a rendersene conto rispetto a noi, in quel caso ci arriverà un avviso bonario dove la tassazione, la sanzione salirà al 10%. La tematica è sicuramente complessa, ovviamente per qualsiasi dubbio puoi anche scrivermi nei commenti e per approfondire il tutto vai su metodovix.com e prenota una consulenza specifica dove entreremo nel dettaglio delle eventuali tue singole problematiche.